Oggi parleremo di EpiCode, insieme a noi abbiamo tra gli speaker Marco Rosci, il CEO di EpiCode. Buonasera a tutti, buonasera, grazie Roberto. Grazie a te per essere con noi. Avremo poi Diego Banovac che ci parlerà dei corsi di EpiCode, quindi approfondiremo un po' tutte le possibilità di studio che offre EpiCode. Successivamente poi parleremo con Alessia Luminari che ci parlerà del placement di EpiCode, quindi tutte le opportunità professionali che EpiCode offre durante i corsi e anche successivamente. Poi andremo a conoscere anche la community di EpiCode insieme a Marina Genari e infine avremo la testimonianza di due ex studenti adesso entrati nel mondo del lavoro, quindi avremo Giovanni che adesso è front-end developer presso Capgemini e avremo poi anche Alfredo che adesso è front-end developer presso Alten. A questo punto io vi do nuovamente il benvenuto e passo la parola a Marco. Grazie Roberto, grazie, buonasera a tutti. Grazie per essere a corsi numerosi oggi a questo webinar, nonostante l'orario, ma sono sicuro che dopo questi minuti insieme porterete a casa parecchio, anche solo a livello informativo, ma spero anche a livello ispirazionale sul vostro futuro, perché se siete qui oggi vi immaginiamo e perché state valutando un po' di carriera, un'accelerazione, e come migliaia di studenti che sono stati nella stessa identica situazione vostra e che accompagniamo ogni giorno, ecco ne abbiamo due esempi qua e poi magari ci diranno un po' cosa vuol dire essere nella situazione sei mesi fa o un anno fa. Io mi presento, sono Marco, sono co-founder e CMO di Epicode, contento di essere qui con voi ad aprire questo webinar perché è una splendida occasione per aprire una finestra sul futuro, per raccontarvi di noi e anche raccontarvi cosa ci aspetta e vi aspetta nei prossimi anni, in modo da attrezzarci per avviare una carriera a prova di futuro. Oggi parleremo di questo, insomma Roberto già vi ha spiegato, quindi vado un po' diritto al punto. Come sapete ragazzi il mondo del lavoro sta cambiando a una velocità di cui non ci rendiamo lontanamente conto e la formazione oggi ha bisogno di una fortissima accelerazione e adattamento al mercato del lavoro che con la tecnologia subisce continuamente scossoni che ormai il mondo non può più ignorare. Quindi qui ci sono alcuni dati, adesso senza che ve li cito tutti, leggeteli tranquillamente, che però vi fanno capire quanto è importante che oggi facciate scelte consapevoli per il vostro futuro. Quindi prendetene atto, immagino che già lo sapete, insomma se ne parla tantissimo, però dall'altra parte quello che spesso non si dice è l'altra faccia della medaglia, che oggi esiste un'opportunità che probabilmente non ha precedenti nella storia, perché l'accelerazione della digitalizzazione, anche dovuta al Covid, ma comunque anche organica, e dei progetti di trasformazione digitale che servono anche a non far rimanere il nostro paese ancora più indietro di quello che c'è magari rispetto a paesi più industrializzati, ha generato in pochissimo tempo un gigantesco step, una voragine tra domande e offerte di specialisti e team. Quindi non ci sono. Pensate che, probabilmente conoscete la statistica, ma su centomila posizioni aperte oggi, oltre trentamila rimangono scoperte, vuol dire che trentamila diluppatori, ma si parla anche di tech in generale, in quel caso i numeri aumentano e aumentano di tanto, le posizioni, trentamila posizioni rimangono scoperte, cioè proprio non c'è nessuno che può riempirle. Quindi che vuol dire? Vuol dire che una posizione su tre oggi non è riempita perché non ci sono le persone. E questo cosa genera, da una parte, un rallentamento del progresso di trasformazione tecnologica, dall'altra, parlando con voi, perché tra di noi stiamo parlando, è una finestra incredibile in cui si stanno buttando tantissimi giovani che hanno capito dove guardare, perché oggi l'opportunità è lì. E chi si porta avanti oggi, chiaramente domani sarà anche spinto molto più facilmente verso l'altro. Quindi uno scollamento di mercato così grande, addirittura le ricerche sono tre volte rispetto alle persone disponibili, si aprono enormi opportunità perché le aziende investono sulle persone che sono necessarie per mandare avanti la baracca, come si dice tra di noi, ma non vogliono quindi più perdere. Il fatto che il lavoro è flessibile, il fatto che riceverete tante offerte di lavoro ogni settimana, perché sono le aziende andare a bussare alla porta dei developer oggi e non il contrario, lo vediamo ogni giorno, poi magari i nostri ragazzi ci daranno qualche feedback su questo, ma soprattutto, quello che io dico sempre è l'impagabile privilegio, perché purtroppo in generale non è così, di avere il potere di scelta. Cioè chi lavora nel tech oggi ha il privilegio di scegliere l'azienda che offre il progetto alle condizioni migliori. E non è il contrario, perché noi siamo abituati a inseguire l'azienda, a inseguire il lavoro, ma paradossalmente sta succedendo, o è successo già, che in questo mercato funziona esattamente al contrario. Oggi è possibile farlo, perché questo è un messaggio importante che voglio dare, almeno parlando di EpiCode, EpiCode nasce proprio in questo gap di mercato, chiaramente specializzandosi nella formazione verticale in ambito tech, dando possibilità a migliaia di giovani di avviare una carriera di successo nel tech, con un percorso più accelerato rispetto all'università, perché sei mesi rispetto a cinque anni sono sicuramente meno, ma perché? Perché abbiamo importato il modello americano del bootcamp con adattamenti, aggiustamenti, e speriamo anche miglioramenti, in cui si prende il meglio dell'università, almeno le competenze più utili e pratiche che vi servono poi per andare a lavorare, compresse all'interno di un percorso molto duro, molto intenso, perché non è semplice. Guardate le facce dei nostri ex studenti che hanno perso dieci anni in sei mesi, ovviamente scherzo, però l'opportunità è enorme. E noi di EpiCode abbiamo voluto addirittura esagerare, perché vogliamo offrire questo cambio di vita praticamente a rischio zero, perché noi crediamo così tanto nel talento, nella determinazione, nella fiducia reciproca con i nostri studenti, nel network di aziende che abbiamo, e chiaramente sulla nostra capacità di fare il nostro lavoro, perché quella è la base, che abbiamo deciso di far pagare i corsi solo dopo che si trova lavoro, dopo due anni tra l'altro, altrimenti il corso è gratuito, perché il concetto è quello della scommessa condivisa con chi ci sceglie, quindi è un patto. Gli studenti mettono tanto impegno e determinazione, e il loro tempo chiaramente, perché il corso è duro, ora adesso Diego vi spaventerà per bene, noi ci mettiamo la nostra capacità di formarvi e di permettervi di inserirvi nel mondo del lavoro, per poi non uscirci più. Quindi il corso si paga solo con uno stipendio in mano, questo è quello in cui crediamo. Quindi EpiCode nasce in questi valori, su questi valori e su questi presupposti, con una formazione interamente orientata all'ontenimento del lavoro di una carriera stabile, e ovviamente come capitate nei prossimi minuti siamo attrezzati per fare questo. Siamo una delle realtà più dinamiche in crescita sul mercato, abbiamo consolidato, ci siamo consolidati come eccellenza italiana, ma non solo, anche all'estero facciamo corsi in lingua inglese, a studenti da più di 20 paesi, a seguito di un'operazione di internazionalizzazione che abbiamo concluso a inizio anno, e direi che non vi annoio più. Passiamo alle cose interessanti e pratiche, vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola a mio collega, amico e socio Diego, che è a capo di tutta l'infrastruttura didattica della tecnologia di EpiCode, che è quello che ci capisce in realtà, e ci capisco tanto di quello che vi racconterà un po' dei corsi. Grazie Diego, grazie a tutti. Grazie mille Marco, grazie mille dell'introduzione. Slide. Ti faccio la valletta. Ok, valletta, slide avanti, grazie. Ok, visto che mi hai già presentato tu, quella slide era superflua. Comunque sì, partiamo ad altissimo livello, perché come magari avete già sentito, magari come già avete visto, ci sono diversi corsi, diverse professioni, che fanno parte di quello che è il panorama della tecnologia. Ad EpiCode abbiamo su Italia cinque diversi piatti sul menu. Abbiamo un corso di front-end development e di back-end development da tre mesi, un corso di full stack development, che è la crasi dei due, un corso di cyber security di tre mesi, e un corso di web development, un po' meno approfondito e più leggero, di sei mesi part-time. Slide. Grazie, Marco. La cosa che voglio discutere di più con voi è il modello che siamo riusciti a creare, grazie ai nostri anni di esperienza, e un po' anche all'esperienza e ai feedback che raccogliamo sul campo da tutte le edizioni ogni settimana dei corsi che facciamo. Abbiamo delle lezioni che hanno delle unità didattiche con un 70% di pratica, perché, al contrario di quello che spesso accade in università, noi sappiamo quanto è importante sporcarsi le mani con il codice, sappiamo quanto è necessario sbagliare, capire dove si è creato l'errore, capire come risolverlo, per poter, da una parte, avere la soddisfazione di costruire qualcosa, dall'altra diventare degli ingranaggi utili ai processi aziendali nei quali verrete inseriti a fine corso. Per questo il corso è diviso in unità didattiche con tre settimane di lezione e una build week, che vi svelo dopo. Tutte le lezioni sono online e dal vivo. Con i nostri, scrivo, amati docenti, perché nelle pagelline che domandiamo ogni settimana e non una volta a fine corso come fanno tante università, i nostri docenti hanno una valutazione media superiore ai nove decimi. Durante queste lezioni avrete la possibilità di fare le domande, tornare indietro, tra virgolette, e fare tutte le interazioni che volete per capire meglio gli argomenti, gli approfondimenti del caso. Durante i pomeriggi, durante le attività, diciamo, di compito e progetto, avremo anche dei teaching assistant con assistenza e one-on-one, quindi delle sessioni private, diciamo, di ripetizioni, in cui potete rimasticare degli argomenti che vi sono più difficili da digerire. Avremo poi queste build week, che ho citato prima, che sono delle settimane alla fine di ogni unit, in cui verrete messi in team, in cui tramite la metodologia agile, lavorerete per costruire dei reali progetti che saranno parte del vostro portfolio, imparando a gestirvi i task, le dinamiche, imparando a utilizzare i tool da sviluppatori per lavorare insieme, e imparando anche a gestire le scadenze sotto la supervisione, ovviamente, del nostro staff. Avremo anche delle guest lecture, perché è importante anche avere un oblò, qualcosa che vi permetta di vedere al di fuori delle mura virtuali della scuola, che vi permetta di parlare con dei tech leads, quindi persone che vi spiegheranno come funzionano le dinamiche tecniche all'interno della loro azienda, o dei CTO che vi spiegano come sono organizzati i loro dipartimenti, o con persone che lavorano nel mondo HR e recruiting, che vi permetteranno di capire quali sono i valori, e le persone con le quali interagirete per entrare in azienda. E ovviamente, come vedrete anche stasera, anche con ex studenti, che comunque con le loro esperienze vi possono portare da una parte la motivazione per vedere chi ce l'ha fatta, e dall'altra anche darvi dei piccoli tip and tricks che vi possono permettere di essere di successo nel corso del percorso. E ovviamente, la cosa più importante, con un corso con 70% di pratica, si costruisce un popò di portfolio, come si suol dire, perché durante tutti i weekly project, le build week, e il progetto finale, e la vostra, se vogliamo, tesi che vi serve per graduarvi, in cui avrete quattro settimane per costruire, con il nostro supporto, un progetto scelto da voi, avrete un portfolio che sarà, se vogliamo, il vostro passepartout per il mondo del tech, perché è un mondo che valuta molto le vostre competenze, la vostra capacità di saper fare, più che un titolo. Ma comunque, il bello non finisce qui, perché non si parla solo di hard skill, e adesso è il momento di passare la parola ad Alessia. Grazie mille, Diego. Allora, ciao a tutti. Io mi presento, sono Alessia, sono la Head of Placement B2B di Epicode, quindi tiro un po' le fila di quello che è l'outcome di voi studenti, non solo dal momento in cui in realtà terminate il corso, perché si può pensare che poi il placement parta solo dal momento in cui si finisce il corso, in realtà no. In Epicode c'è molto di più, come citava Diego, ci sono le soft skill, le soft skill si costruiscono e si portano avanti tanto quanto le hard skill, quindi per un tempo che non può essere una sola settimana e la andiamo a costruire durante tutto il programma. Marco, se possiamo mandare avanti la slide, così lo spieghiamo bene. Tra l'altro nel QR code trovate il mio LinkedIn, così se volete contattarmi o vedere un po' quello che fanno i nostri studenti, spesso e volentieri pubblico i loro progetti o qualcosa a riguardo. Allora, cosa succede in Epicode? Job Readiness Program. Che cosa significa? Una parolona per descrivere cosa, un vero e proprio percorso parallelo a quello che è il mondo delle hard skill che va a concentrarsi più sulla vostra preparazione per l'ingresso al mondo del lavoro. Quindi facciamo delle lezioni più dedicate a temi di comunicazione, di branding, di posizionamento sul mercato del lavoro, classici workshop che poi in realtà non sono così classici su come scrivere un curriculum, scrivere una cover letter in italiano e in inglese, creare un portfolio GitHub che sia performante per i tech recruiter o recruiter che vi guardano, come fare, superare una interview, andiamo a fare non soltanto una parte teorica dove vi spieghiamo quali sono le domande classiche in un colloquio di lavoro, ma anche poi tutta quella che è la parte di simulazione di colloquio, andandovi ogni tanto anche a sfidare con le domande un pochino più difficili che sono da rispondere. Ma non solo, andiamo a vedere anche tutta la parte di studio del mercato in cui vi andate ad inserire, andiamo a vedere le migliori strategie per trovare facilmente, più che facilmente, senza esasperarvi, un lavoro che vi soddisfi e anche per capire quello che è poi il lavoro che vi può soddisfare. Ora, come lo facciamo? Lo facciamo attraverso delle sessioni di trading durante tutto il programma, lo facciamo aiutandoci con degli strumenti dedicati che ci aiutano nell'analizzare le vostre performance e aiutano voi ad analizzare le vostre performance, ma soprattutto lo facciamo grazie ai ragazzi che vedete qui nella foto che è il team di placement che vi supporta attraverso il career coaching e il one-on-one settimanalmente alla fine del corso per farvi arrivare al successo nel più breve tempo possibile. Io lo dico sempre, ovviamente ci deve essere un impegno reciproco perché anche voi dovete volerlo, però ecco, se seguite quello che vi diciamo e i nostri consigli, insomma, ci sono tantissime testimonianze di persone che poi sono riuscite ad arrivare al risultato che volevano e anche anche a di più in realtà di quello che si aspettavano. Ora, perché vi racconto tutto questo? Perché come ci dicevamo è molto importante la parte di hard skill, è molto importante la crescita tecnica, però per diventare dei veri e propri professionisti è importante anche capire chi siete nel momento in cui entrate nel mercato del lavoro. È importante capire dove volete finire e quali sono le cose in più che avete rispetto a tutti gli altri competitor. Ecco, Epicode vi dà questo, vi dà in mano gli strumenti per diventare dei professionisti più più. Ok? Quindi, poi, stocca a voi il saper mettere in pratica tutte queste cose. non vi posso dire che è un percorso facile, lo sappiamo tutti, ve lo racconteranno poi i ragazzi che ci sono oggi. Non è facile, ma sicuramente è un percorso che poi vi porta tantissime soddisfazioni. E niente, io spero di vedervi in classe e vi ripeto, se volete dare ogni tanto un'occhiata a quello che facciamo, ma soprattutto a quello che fanno i nostri ragazzi, insomma, sul mio profilo, sul profilo di Marina, sul profilo di Marco, di Diego, insomma, che stiamo parlando oggi, trovate spesso, ricondividiamo spesso tutte quelle che sono le iniziative che intraprendono i nostri ragazzi e anche ovviamente sulle pagine EpiCode. Quindi, io non sto neanche a dirvelo di seguirci. Lascio in realtà la parola così a Marina con un'ultima però citazione che dico sempre a tutti, poi a me che piace molto il mare, non esiste un vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, quindi è importante che voi capiate dove volete andare nella vostra vita. È nella prossima slide, ma me la ricordo a memoria, quindi in realtà Marco, non ti preoccupare. Mi sembravo bravo a fare la valletta, invece niente, non sono... non ti preoccupare, sei un'ottima valletta. Ecco, questo per dirvi ovviamente per sapere quale sarà il vostro futuro c'è bisogno di avere consapevolezza e noi cerchiamo di darvi questa consapevolezza nel modo migliore che possiamo. Lascio la parola a Marina che invece vi parla delle cose divertenti che abbiamo all'interno di EpiCode, quindi lei è la parte super fan. Speriamo, speriamo. Grazie Ale, ciao a tutti, buonasera a tutti. Io, ok, eccomi, sono Marina, community manager in EpiCode e lo dico sempre, sono molto felice ogni volta di presentare la nostra community perché veramente pensiamo che sia fra le risorse più importanti in EpiCode. In realtà poi è quello che ci dicono anche i nostri studenti, non lo diciamo noi, ma sono proprio gli studenti a dirci che probabilmente senza l'aiuto dei propri colleghi, senza l'interazione e i rapporti che si creano con la classe e con la community probabilmente non si otterrebbero gli stessi risultati. Quindi è sempre fondamentale l'interazione e l'aiuto che c'è durante il corso tra tutte le persone che vivono questa esperienza. Sto cercando di muovere le slide. Marco, se puoi andare avanti tu perché non riesco. provo io, vediamo. Ok, grazie. Allora vi do qualche dettaglio in più sulla nostra community che al momento è una community internazionale. Abbiamo circa 2000 EpiCoder come li chiamiamo noi provenienti da circa 20 nazioni diverse. Ovviamente questo oltre a dare una possibilità di networking costante dà anche una ricchezza culturale e mensa quindi uno scambio veramente culturale che non è da sottovalutare quindi ci teniamo sempre molto. Organizziamo periodicamente mensilmente attività programmi eventi che vanno anche un pochino fuori rispetto all'attività meramente didattica e alle lezioni del corso. La prima di cui parliamo è la possibilità di ricollocamento professionale quindi all'interno della nostra community abbiamo dei canali dedicati in cui vengono condivise offerte di lavoro anche per persone per studenti che hanno già trovato lavoro quindi c'è la possibilità di ricollocarsi di trovare già un secondo lavoro un terzo lavoro e abbiamo già la testimonianza di studenti che hanno cambiato più lavori da quando hanno finito il corso in EpiCoder. Organizziamo poi mensilmente eventi come guest lecture con professionisti di qualsiasi tipo di settore ovviamente principalmente del settore IT ma ve lo diceva anche Diego prima che portano sempre la propria testimonianza la propria esperienza personale e professionale e sono sempre di grande aiuto ai nostri studenti Organizziamo mensilmente interviste sia ai nostri ex studenti che adesso stanno lavorando ed è sempre bello ritrovarli in quanto professionisti ormai quindi non sono più studenti non stanno più frequentando il corso ma sono effettivamente degli sviluppatori che possono dirci come andate e possono raccontarci le loro giornate lavorative ma cerchiamo di intervistare anche i nostri studenti attuali gli studenti in corso quindi periodicamente facciamo delle dirette in cui chiediamo ai nostri studenti qualcosina in più perché ci piace conoscerli ci piace dare un volto a chi segue i nostri corsi e scoprire qualcosa in più sulle loro storie organizziamo poi una formazione continua abbiamo la possibilità di formazione continua anche di workshop come diceva Alessia prima ma c'è comunque sempre la possibilità per i nostri studenti di non lasciare EpiCode una volta finito il corso ma di continuare di affidarsi a EpiCode anche per altri corsi per altre specializzazioni e anche qui ci è capitato diverse volte di avere studenti che finito un corso decidevano poi di iscriversi per approfondire altro per vedere altre tecnologie quindi c'è sempre veramente la possibilità continua di imparare e di apprendere nuove cose cerchiamo poi però di dedicare del tempo anche a elementi e fattori un pochino più divertenti che possano distrarre anche gli studenti durante le giornate impegnative di studio stiamo organizzando e qui abbiamo delle novità importanti che però non vi dirò in dettaglio ma stiamo organizzando sono in programma delle coding challenges abbiamo delle sessioni di live coding e a breve vedrete delle delle novità ma non non dico molto per ora e infine l'ultimo programma di cui vi parlo è l'ambassador program è sempre tra i miei preferiti è un programma esclusivo dedicato ai nostri alumni quindi agli studenti che hanno terminato il corso e che decidono di utilizzare la propria esperienza la propria testimonianza per essere una guida per i nuovi studenti quindi i nostri ambassador sono i punti di riferimento specialmente per chi inizia un'avventura del genere e veramente possono fare la differenza quando si intraprende un percorso del genere adesso Marco se andiamo avanti con la slide facciamo vedere anche qualche volto in più perché noi lo diciamo sempre io lo dico sempre Epico è una realtà completamente online 100% online ma a noi ci piace vederci ci piace sentirci vicino ai nostri studenti quindi quando possibile cerchiamo di incontrare i nostri studenti ci è capitato di incontrare i nostri studenti di berci anche qualcosa insieme ci arrivano spesso anche foto di gruppi di studenti che si riuniscono decidono di vedersi magari scelgono una città e si riuniscono da diverse parti di Italia o di Europa alcuni scelgono di passare anche il weekend insieme nonostante siano dal lunedì al venerdì collegati online ma poi si incontrano anche nel weekend per distrarsi insieme o per studiare insieme quindi è sempre è sempre molto bello poi portare questa realtà anche al di fuori di uno schermo e infine l'ultima cosa di cui vi parlo è la possibilità di organizzare settimane di co-living e co-working all'estero questa è una cosa che sta per partire anche qui non vi dirò tanto ma le prime edizioni la prima edizione è già definita quindi avremo a breve alcuni dei nostri ex studenti che prenderanno un aereo e andranno all'estero per passare un po' di tempo insieme avere appunto questa esperienza di co-living e co-working e anche qui per avere ancora una volta la possibilità veramente di networking e di conoscere anche professionisti al di fuori di EpiCode e conoscere realtà al di fuori di quella italiana anche qui seguiteci perché nelle prossime settimane ne vedrete qualcosa di più quindi scoprirete quello di cui di cui sto parlando adesso io finisco qui perché in realtà lo diciamo sempre per parlare di EpiCode noi preferiamo dare la parola a chi vive EpiCode a chi conosce EpiCode a chi conosce questa esperienza quindi come dicevamo prima abbiamo Alfredo e Giovanni due ex studenti che sono sono qui eccoli per per darci un po' una testimonianza di quello che hanno vissuto adesso lasciamo la parola a loro onde evitare problemi fare partire Alfredo che vedo a sinistra e poi andiamo con Giovanni che vedo a destra nella foto così ci date un po' ci dite un po' chi siete ci date una testimonianza del vostro corso di quello che avete fatto ma specialmente di quello che è successo dopo il corso che state facendo adesso vai Alfredo va bene grazie Marina io sono Alfredo ho 22 anni e sono sardo vengo da Canigione un piccolo paesino e prima del corso facevo il marinaio durante l'estate quindi anche ricollegandoci alla citazione prima di Alessia effettivamente se non si sa dove bisogna andare il vento serve a poco e durante lo scorso inverno non sapevo cioè non stavo riuscendo a trovare lavoro fisso diciamo e ho scovato questa pubblicità su Facebook che parlava del corso di Epicode ho deciso di informarmi ho chiamato alla scuola ho iniziato a fare un po' di domande e a fine febbraio ho iniziato il percorso per fare il frontend developer sono partito completamente da zero nel mese precedente al corso ho iniziato a informarmi un pochettino da autodidatta però non è facile quanto avere un professore e comunque anche compagni che ti aiutano e ti supportano durante tutto il percorso infatti come diceva prima Marina forse la cosa più forte più importante del percorso di Epicode proprio la community è il senso di gruppo che si va a creare durante il percorso di studio infatti insieme a Giovanni e tanti altri compagni abbiamo fatto moltissimo gruppo ci sentivamo anche dopo le lezioni per migliorarci darci consigli a vicenda e anche aiutarci perché magari capitava che uno era un po' più capace riusciva a dare una mano a qualcun altro in diversi argomenti è finito il corso dopo in circa una settimana vengo contattato dalle prime aziende partner di Epicode dopo neanche un mese dalla fine del corso inizio il mio percorso in Alten dove attualmente lavoro come junior frontend developer quindi proprio diciamo una posizione di ingresso sono attualmente in stage lavoro da remoto da casa mia quindi in tutta comodità e niente senza Epicode probabilmente non avrei un lavoro del genere attualmente non sarei così tranquillo anche diciamo grazie Alfredo visto che faccio la valletta faccio anche da presentatore no qualche giusto una curiosità Alfredo durante il percorso insomma ma perché lo vediamo anche noi e volevamo anche sentire un vostro punto di vista ci sono diversi momenti di chiamiamolo sconforto demotivazione perché comunque entrare in contatto per la prima volta con insomma in un ambito del genere non è semplice un po' uno schiaffo in faccia no? quindi bisogna anche saperlo prendere cosa vi ha portato a tenere duro cosa vi ha permesso di arrivare fino in fondo nonostante le difficoltà il tanto sforzo impegno che che vi è richiesto perché allora nel mio caso direi che era l'obiettivo di avere un lavoro che mi permettesse di lavorare da casa e di essere diciamo libero di gestirmi a grandi linee i miei orari diciamo ero proprio fissato su questo obiettivo ho cercato di dare il massimo oltre a quello è stato soprattutto il supporto dei professori e dei miei compagni di classe senza di loro non sarei arrivato fino in fondo neanche senza la tua determinazione però datti tutto il merito giustamente no perché tanti tanti ragazzi poi decidono di non proseguire ma è normale nel senso se non si è pienamente convinti o determinati a voler entrare in questo mercato in qualsiasi mercato e non è solo un discorso di tech o non tech se non c'è la motivazione giusta chiaramente un percorso del genere è troppo challenging probabilmente quindi no grazie per aver portato la tua testimonianza Alfredo e faccio soltanto un'interruzione di primo tempo perché volevo soltanto interpellare un attimo Alessia e Diego e poi diamo la parola a Giovanni perché ci sono qualche c'è qualche domanda che volevo che volevo girare ai nostri ai nostri colleghi ce n'è una se vuoi Diego rispondo io questa la so è facile chiedono se è fattibile portare avanti il corso facendo già altro sempre sempre da studente insomma studiando un altro corso vabbè dillo te se no io sono troppo buono dipende se si vuole anche dormire sapete non dormire potete farlo se no no diciamo che abbiamo visto rarissimi casi di persone che sono riuscite a superare il primo paio di settimane avendo qualche altro impegno che fosse anche solo un lavoro part time che coincidesse con alcune ore del giorno mi collego anche un'altra domanda che ho letto perché la giornata è molto impegnativa inizia alle 9 di mattina con il primo incontro che si chiama kick off in cui con il docente si vanno a vedere quali sono gli argomenti della giornata perché quegli argomenti sono importanti e necessari e cosa si sarà in grado di costruire per la fine della giornata per tutta la mattina abbiamo una lezione live ovviamente con delle pause perché siamo tutti umani fino a ora di pranzo fino a luna dove c'è un'ora di pausa pranzo fino alle 2 dalle 2 inizia una Q&A session facoltativa con i teaching assistant per andare a ripassare alcuni degli argomenti della mattinata o per chiarire eventuali domande sui compiti che sono stati dati a fine lezione e alle 5 di pomeriggio vengono consegnati i compiti e si correggono insieme e si vedono insieme le diverse implementazioni possibili quindi diciamo che quelle 8 ore minimo necessarie sono da dedicare al corso ma tanti studenti ti potranno confermare che più che 8 ne servono 10 per riuscire a far tutto per riuscire ad assimilare e soprattutto perché si appassionano a tal punto che ci passano poi anche il weekend perché vogliono scoprire di più e vogliono andare più in profondità grazie Diego allora ne faccio soltanto una ad Alessia così poi passiamo passiamo a Giovanni e poi vediamo le altre le altre alla fine chiedevano cioè una persona che chiede se è fattibile fare questo tipo di lavoro mentre se ne porta avanti un altro se ne porta avanti un altro allora anche qui è un po' ovviamente è un po' complesso perché poi la maggior parte delle aziende chiedono un impegno full time quindi se anche dall'altra parte c'è un impegno full time magari può essere difficile portare due impieghi in contemporanea ecco la mia modesta opinione come diceva Diego se ci piace dormire forse non è così facile farlo anche perché poi non rendereste bene né nell'uno né nell'altro lavoro capito ragazzi questa è un po' è un po' la chiave ricordatevi sempre che quello che si chiama content switching che è passare da una parte all'altra e fare avere insomma differenti cose da vedere non è così facile soprattutto perché ovviamente se vi è andato ad approcciare a dei mercati che sono in altre time zone potrebbe essere fattibile magari lavorate la notte come sviluppatori e di giorno fate i bancari ma poi non vi rimane tempo per vivere come battu si io io personalmente come come career coach non ve lo consiglio perché c'è bisogno anche di avere un minimo di equilibrio tra vita lavorativa e vita e vita personale poi è ovvio che insomma su sull'Italia fare due lavori in contemporanea è un po' difficile ok quindi non voglio creare false speranze nel dire che si può fare la seconda domanda sì no no dimmi marco no no era una battuta tanto ma soprattutto non volete non vorreste fare un altro lavoro quindi esatto cioè nel senso anche quello anche quello è importante no poi ci diranno alfredo e giovanni che insomma è vero che sembra non essere un lavoro troppo stancante perché si sta davanti a un computer però mentalmente insomma lo sforzo che ci mettete non è non è banale no quindi se non vi sforzate fisicamente comunque non pensate che è arrivata la fine della giornata freschi e riposati eh ecco alfredo e giovanni magari ce lo possono dire visto che comunque per loro adesso sono le 6 e 40 quindi sai magari hanno appena terminato di lavorare quindi l'altra domanda invece invece immagino che sia Marco quella se si può che chiede posso chiedere se si potrà scegliere l'azienda per cui lavorare giusto grazie Alessia sì corretto ok perfetto allora ovviamente sì non noi non non vi obblighiamo a scegliere un'azienda che non sarebbe nelle vostre corde ok quindi non assolutamente potete scegliere l'azienda dove lavorare il nostro ruolo è quello di suggerirvi e consigliarvi e aiutarvi a trovare proprio l'azienda che fa il caso vostro e aiutarvi a scovare quelli che sono gli abbagli quindi quelle aziende che magari vi sembrano essere perfette vi sembrano essere fatte d'oro e invece poi in realtà non è così ok quindi noi non ci metteremo non sceglieremo mai al vostro posto vi daremo sempre un consiglio e un suggerimento che è quello che un po' rientra nel nostro ruolo ma poi la scelta finale spetterà sempre a voi per quanto riguarda invece la domanda riguardante se dovesse andare male che cosa succede non è un problema andiamo a vedere insieme quali sono state le motivazioni che vi hanno portato a scegliere di non proseguire la collaborazione con quell'azienda ok così anche da fare un'analisi retrospettiva e capire come andare a migliorare in un momento successivo ok quindi spero di aver risposto alla domanda e insomma se poi c'è qualche altra curiosità scrivete e vi rispondo grazie grazie mille come sempre ottimo allora per ora abbiamo smaltito un pochino le domande sono tantissime infatti ringraziamo tutti però adesso è giusto che diamo un attimo la parola a Giovanni e poi chiudiamo con la carrellata di Q&A quindi Giovanni come Alfredo un po' il tuo percorso qual è stato più che altro anche il prima cosa ti ha portato poi a scegliere di frequentare il corso EpiCode o comunque entrare in questo in questo mondo poi come è stata la tua esperienza durante e adesso come passi le tue giornate grazie Marco ciao a tutti mi chiamo Giovanni Tassone sono di Torino ho 20 anni prima di EpiCode diciamo che la mia vita è stata un po' altalenante perché ho fatto un percorso di studi totalmente diverso da quello che può essere l'ambito informatico perché ho fatto degli studi professionali quindi nell'ambito dell'alberghiero successivamente post maturità ho deciso di intraprendere quelli che potevano essere gli studi per l'università ma ritenevo che non fosse nelle mie corde più che altro per la quantità magari di di tempo e di concentrazione che bisogna dedicare all'università perché non è breve l'università tanto più se nell'ambito dell'economia che era quello che avevo scelto devi anche andare più avanti dei tre anni quindi avevo deciso dopo i primi tre mesi di fermarmi diciamo dare uno stop a quella che era la situazione universitaria e girando su Instagram ho trovato Epico ovviamente prima di iscrivermi mi sono informato perché già da tempo Epico diciamo forniva alcune interviste alcune diciamo dichiarazioni come sono quelle che possiamo rilasciare io Alfredo in questo momento da subito è stato convincente non appena sono entrato diciamo in Epico ho confermato tutte quelle che erano le voci le dichiarazioni che venivano dette su questi corsi ho fatto anch'io un corso da front-end developer mi sono trovato benissimo per quanto riguarda sia la compagnia i compagni ma una cosa che mi ha sorpreso più di tutti era il fatto dei docenti i docenti sia nella parte mattutina della giornata che nella ora che veniva riservata il pomeriggio erano sempre quasi vicini a tutti nessuno veniva escluso quindi anche se c'era qualcuno con una piccola difficoltà ci si soffermava per far sì che potesse essere chiaro quel concetto per quella persona e questa è una cosa da ammirare perché magari nelle scuole e nelle università chi rimane indietro diciamo è perduto quindi non riesce se non da solo a riprendere un pochettino il percorso da solo sulle sue proprie gambe qui invece si ha il supporto oltre dei docenti anche dei compagni perché io dico la mia esperienza ero una persona anzi lo sono tuttora molto 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 timida e se non fosse per i miei compagni penso che la mia personalità non fosse stata fatta diciamo presente ai docenti che hanno ammirato questa mia diciamo talento nell'ammettotech a tal punto da premiarmi poi anche post corso perché quando ho trovato lavoro sono state le prime persone a essere fiere di me oltre a chi mi ha seguito nel trovare lavoro e adesso attualmente lavoro presso Capgemini una multinazionale e dopo ho trovato lavoro subito dopo aver finito il corso quindi il corso per me è finito il 3 giugno io il 6 avevo già il contratto in mano quindi il 9 scusate quindi dopo 6 giorni avevo già il contratto di Capgemini che essendo periodo estivo era diciamo lo stage perché non possono diciamo fare contratti magari lunghi durante l'estate quindi una volta terminata l'estate mi è stato proposto un tempo diciamo indeterminato per una grande azienda come Capgemini e devo dire che mi sto trovando abbastanza bene anche perché come dico quando le persone mi chiedono che cos'è Epico del lavoro se si ha anche un briccio di passione può diventare il tipico lavoro barra passione perché è un ambito dove attualmente c'è una grande evoluzione c'è tanto lavoro in questo settore e parlo io che non ho mai avuto esperienze prima di Epico nell'ambito tech quindi io prima di Epico non sapevo programmare niente quindi diciamo che Epico è stato il mio trampolino di lancio nel mondo della programmazione e ne sarò sempre grato e noi siamo grati a voi ragazzi Alfredo e Giovanni per la fiducia che ci avete mostrato e l'opportunità che ci avete dato di servirvi di fare con voi un piccolo passo insomma adesso avete un'autostrada davanti e una Ferrari sotto il sedere quindi siete pronti veramente a cambiare vita tutto serio e ragazzi io vi ringrazio vogliamo rispondere ecco magari alle ultime domande che ci sono anzi se avete domande anche per i nostri ragazzi stravolentieri insomma loro sono ben contenti di rispondere allora vado vado un po' io e cerco di smistare quello che so provo a rispondere io allora si parla di aiuto finanziario se c'è un aiuto finanziario la risposta è sì non so se siete andati sul nostro sito in alto c'è nemmeno una sezione che è metodi di pagamento potete vedere tutti e tre i metodi di pagamento che abbiamo attivi ce n'è anche uno con finanziamento che permette di ottenere senza quasi senza interessi perché è un prestito d'onore l'intero costo del corso che potrà essere restituito dopo due anni dalla fine del corso e soltanto se si trova lavoro altrimenti c'è la formula super bonus che si paga diciamo durante durante il corso a rate ma se non si trova lavoro vi ridiamo il 110% di quello che avete pagato il costo del corso è intorno ai 4.700 euro per queste due formule e poi c'è la formula metà e metà quindi si paga metà durante il corso e metà solo se si trova lavoro insomma queste sono tutte le informazioni più presti ma intanto è tutto in trasparenza potete andare sul sito e trovate tutte le informazioni quindi ho risposto anche a quest'altra domanda c'è una domanda che dice c'è la possibilità di avere formazione dal vivo in Sardegna nella parte sud vicino Cagliari a noi piacerebbe moltissimo anzi ecco Alfredo non so se tu sei vicino Cagliari o per dire lo stesso c'è Alfredo c'è Alfredo no io sono nord Sardegna vicino Porto Cervo diciamo vabbè ti fai qualche ora di macchina e possiamo aprire una sede in Sardegna no per noi noi veramente sarebbe un sogno avere anche una scuola fisica però crediamo tanto nel nel digitale ma perché riusciamo a raggiungere tante tante persone e non è escluso con domani magari faremo tra l'altro degli eventi dei workshop in presenza dei metà di persona però per ora le lezioni le eroghiamo online insomma una domanda questa più per Alessia più Alessia ma anche ai ragazzi che in parte hanno risposto più o meno dopo quanto si trova lavoro sicuramente tu saprai rispondere meglio però allora questa è una una ottima domanda l'avevo già letta quindi ero capito già capitante ero pronta ero pronta allora non c'è una risposta esatta o meglio dopo vi dico quant'è la media però in quanto tempo si trova lavoro ci sono tante tante se vogliamo tante piccole cose che determinano in quanto tempo trovate lavoro un po' quello che è stato il vostro rendimento la vostra preparazione nel tipo di aziende che cercate il tipo di vincoli che avete quindi ecco per dire Giovanni è uscito sei giorni e ha trovato lavoro ok Alfredo ora non ricordo dopo quanto tu invece hai trovato dopo mi pare un po' di più giusto ricordi io la settimana stessa che abbiamo finito ho ricevuto la proposta ho iniziato a fine mese ok perfetto ecco per dire Alfredo ha ricevuto la proposta dopo poco però ecco mi ricordavo che ce l'ha stato un piccolo un piccolo invece di lei quindi quello che vi posso dire ecco poi Alfredo e Giovanni hanno avuto sicuramente sono stati bravi hanno trovato subito l'azienda o comunque l'azienda che faceva per loro li ha trovati subito ci sono altri ragazzi che invece hanno impiegato un pochino di più anche per una questione di capire bene quello che fosse il loro l'azienda giusta il nostro la nostra media è intorno ai due mesi due mesi e mezzo ok quindi ovviamente ci sono studenti che impiegano un po' di più studenti che impiegano un po' di meno ma generalmente intorno dopo due mesi la maggior parte trovano hanno già trovato tutti il lavoro hanno già cominciato tutti quanti a lavorare a scrivere codice che insomma poi quello fa sempre piacere tutto qua non so le vuoi a questo punto rispondere non so se vedi tu le domande aspetta sì aspetta aspetta è qualcuna per te c'è il tuo nome non è qualcuno per me allora se a fine corso non si trova lavoro quale potrebbe essere il motivo questa è un'ottima domanda bella domanda sì molto bella allora ci sono differenti motivazioni motivazione numero uno e forse la principale è che si finisce il corso e non si è convinti di volerlo trovare questo lavoro ok quindi si arriva alla fine del corso e non si è ancora convinti che quella sia la strada giusta quindi anche se anche mandando candidature anche mandandoci via tutto spiano comunque è sempre difficile poi convincere le persone davanti a voi che siate giusti per quella posizione perché ricordatevi sempre che tutto parte da come comunicate chi siete e da come comunicate le persone davanti a voi che fate esattamente al caso loro ok quindi questo sicuramente è un elemento determinante poi ovviamente ci sono tante tante altre casistiche legate magari a una sbagliare il target di aziende e anche quello succede spesso è successo a me anche quando ero quando ero più giovane nel senso si pensa che per dire la multinazionale sia il posto perfetto per noi si mandano candidature solo a quella tipologia di aziende per poi rendersi conto invece che non fanno il caso nostro che magari per come siamo fatti per quelle che sono le nostre caratteristiche di personalità non vanno bene e ancora un'altra che posso citare è magari una preparazione ancora non idonea al mercato del lavoro ora questo se vogliamo la metto come ultima perché la mia speranza insomma è l'ottimo lavoro che fanno poi anche i docenti è quello di valutarvi e capire se siete o non siete pronti all'ingresso nel mondo del lavoro però potrebbe essere qualcuno di voi potrebbe avere magari potrebbe essere più un po' più insicuro su alcune materie soprattutto se quelle insicurezze si riflettono poi su un compitino che vi viene dato per superare un colloquio di lavoro o proprio in un colloquio di lavoro insomma possono poi decidere la vostra esclusione dal processo di selezione però la motivazione principale di non si trova un lavoro è o perché si sbaglia a fare una valutazione di quello che si sta cercando o perché realmente non si sta cercando ok quindi quello che noi abbiamo visto è che poi tutti gli studenti che hanno seguito i nostri consigli che hanno se vogliamo che si sono aperti anche ai ragazzi del career service con i loro dubbi e le loro perplessità sono riusciti a trovare una soluzione ed arrivare ad avere un contratto ok quelli che invece sono rimasti un pochino fuori un po' meno e poi c'è un'altra domanda che è qual è il salario minimo iniziale appena si trova lavoro anche su questo lo spettro è molto ampio perché varia da contratto a contratto quindi voi calcolate che ci sono i contratti di stage che si aggirano intorno agli 800 1000 1200 euro al mese andiamo sui contratti di apprendistato invece che hanno una RAL che generalmente è tra i 18.000 e i 20.000 21.000 euro poi i contratti di tempo indeterminato dove le cifre si alzano e variano in base all'inquadramento al contratto al livello insomma c'è un mondo dietro queste famigerate RAL per un contratto diciamo junior di solito si sta in media tra i io dico sempre tra i 18.000 19.000 euro ai 23.000 24.000 la media poi c'è chi prende 30 c'è chi prende 15 ok però quella è la media e c'erano altre domande Marco per me o che non ho perso no lato lavoro career services hai anzi hai detto tutto quindi non credo che ci siano altre domande rimanenti grazie grazie mille Alessia ragazzi scrivete se qualcosa non è chiaro però insomma noi siamo comunque a disposizione per raccontarvi tutto anche fuori da questo webinar del nostro lavoro no ce n'è una per Diego intanto io farei complimenti Alessia e Diego voi non sapete dove sono loro ma non sono nel nostro pusorario è leggermente più tardi diciamo che è notte quindi adesso facciamo rispondere a Diego l'ultimo e poi lasciamo andare a dormire i nostri però siamo freschi sicuramente più di me sicuramente più di me lo sai che io mi metto a chiacchierare insomma purtroppo è così ma Diego invece niente si è addormentato no no ci sono ci sono tre domande ce ne sono tre scusami no ti prendevo in giro Diego la domanda è cosa succede se non completiamo il corso con successo come funzionano gli esami insomma relativo al mondo didattica ok perfetto allora diciamo che le prime due settimane del corso sono quelle più sono quelle diciamo di valutazione in cui sia voi potete valutare il corso e andarvene in qualunque momento con la quota di iscrizione indietro e con una stretta di mano senza neanche dirci perché ma ci piace sempre sapere perché quelle rare volte in cui questo accade e anche per noi per valutare chi sono le persone più adatte al percorso perché ovviamente il percorso che offriamo noi è un percorso molto intensivo molto duro che magari non è adatto a tutti magari qualcuno ha bisogno di avere un percorso più self-paced quindi andare a una velocità che sceglie lui o sceglie lei o magari qualcuno ha bisogno di qualcosa di ancora più veloce e noi andiamo troppo piano quindi nel senso le prime due settimane servono a capire se ci piacciamo una volta che finiscono le prime due settimane noi facciamo degli assessment settimanali di due tipi da una parte facciamo dei quiz che vengono fatti sulla nostra piattaforma online che sono diversi per tutti gli studenti quindi non potete copiare e che tendono a riconoscere l'aspetto teorico della materia quindi ci permettono e vi permettono di capire il vostro stato di avanzamento sugli argomenti di quella settimana specifica e oltre a questo vi viene chiesto di costruire un piccolo progettino con le tecnologie che abbiamo imparato nel corso di quella settimana entrambe le due diciamo le due componenti concorrono a creare sostanzialmente il vostro voto per quella settimana in caso di insufficienze prolungate tra virgolette facciamo un esame orale di assessment per verificare che lo studente dato il tempo per ripassare abbia confidenza sufficiente con quegli argomenti questo è diciamo il come andiamo a valutare il progresso dei diversi studenti ma comunque conosciamo tutti in classe comunque solitamente sono gli studenti stessi in primis a chi ci aiuto quando si rendono conto di essere carenti su qualcosa e quindi solitamente superate le prime due settimane difficilmente abbiamo problemi di difficoltà di mantenere diciamo il ritmo e la velocità del corso grazie Diego grazie mille rispondo io alle ultime due brevemente una sui requisiti e se c'è una selezione in ingresso e la risposta è sì proprio per il motivo insomma di cui i motivi di cui abbiamo parlato finora per noi non vi nascondiamo che è un investimento importante insomma permettere a tutti i nostri studenti di non pagare fino al momento dell'ottenimento del lavoro quindi una selezione c'è composta da un colloquio di selezione e da un test in più c'è anche un precorso non obbligatorio al momento da fare in preparazione del bootcamp però la selezione c'è non è basata su requisiti per rispondere alla seconda domanda diciamo di titolo di studio per esempio o di livello di conoscenza del mondo del coding assurante no per quello ci siamo ci siamo noi però è un assessment quindi è una selezione molto orientata a testare la vostra motivazione perché come abbiamo detto finora è quello il segreto per arrivare alla fine e per trovare lavoro e per avere una carriera di successo ma non serve solo per Epico serve in generale la vita però noi per il nostro percorso richiediamo motivazione massima e l'ultima domanda chiedevano se ci sono borse di studio allora di base no perché di fatto pagando solo al lavoro ottenuto è come se fosse una sorta di borsa di borsa di studio cioè nonostante ci sono dei progetti che attiviamo insieme ad aziende come non so se avete visto l'ultimo insieme al Ernest & Young la multinazionale delle consulenze che ha chiesto si è appoggiato a noi per trovare dei talenti che noi formiamo in quel caso con un processo di selezione un pochino più stretto in entrata è possibile accedere ai corsi sponsorizzati quindi da aziende in partecipare ad aziende gratuitamente senza neanche dover pagare successivamente al momento ne stanno partendo vari il 26 settembre le classi sono quasi chiuse ma trovate le informazioni sul sito e sono nel mondo data analytics quindi non è mondo sviluppo web ma ne attiveremo tanti quindi state rimanete aggiornati come ha detto Alessia mettete i like sui social troverete tutto lì o se no ogni tanto andate sul sito e vi fate anche magari due risate che facciamo anche cose divertenti va bene quindi siamo un minuto di ritardo però ci siamo siamo stati bene noi siamo in pieno ritmo in pieno ritmo vai tu Roberto intanto volevo ringraziare tutto il team di Epicode e anche gli ex studenti per questa bellissima presentazione per l'entusiasmo che ci avete trasmesso anche perché ci mettete realmente la faccia quindi aiutate tutti i potenziali studenti ai futuri professionisti anche a fugare ogni dubbio ogni incertezza a capire se è veramente quello che che fa per loro il mondo del coding quindi grazie ancora grazie anche a tutti i partecipanti a questo a questo evento quindi a tutte le domande le tantissime domande che sono arrivate vi ricordo che se voleste ulteriormente approfondire rivolgere altre domande al team di Epicode ai nostri speaker riceverete nei prossimi giorni una nuova mail contenente anche tutti i contatti per poter approfondire richiedere altre informazioni mandare la vostra candidatura anche e quindi iniziare la prima selezione come parlava Marco un primo test conoscitivo un colloquio conoscitivo con Epicode vi ricordo anche che se voleste ricevere un attestato di partecipazione potete scriverci una mail all'indirizzo che trovate in chat vi risponderemo poi con il documento richiesto e quindi che dire grazie ancora a tutto il team di Epicode ai nostri ex studenti quindi ad Alfredo e a Giovanni per la loro testimonianza e ci vediamo quindi al prossimo appuntamento con Epicode grazie ancora a tutti e buona serata a presto ciao buona serata grazie ciao a tutti ciao ciao